ciao ragazzi vi faccio vedere un po' di orecchini presi all'UVS sono questi qua i Magirev questo molto bello questo con la perla questo con la conchiglia 6,99 3 paia di orecchini e con questo ok questi sempre presi all'UVS mi piacciono un casino solo che devo fare attenzione adesso in inverno non farli intoppare con la giacca visto che porto la giacca un po' un po' più coprenta collo alto questi sono lì della camomilla anzi no scusate mi sto spogliando questi qua non li ho presi all'UVS questi qua li ho presi da Tigota questi invece questi altri che adesso vi faccio vedere che sono molto bello sono sempre i Magirev OVS vedete con il pappagallo e c'è anche come vedete la piuma dello stesso colore del pappagallo l'unica cosa vedete come qua per farlo entrare nelle orecchie dovete un attimino allargare togliere questo e poi infilarlo e rimettere questo perché sennò potreste perdere l'orecchino quindi diciamo è molto bello però è un po' come dire fastidioso da mettere e costa 6 euro e 99 solo lui è scritto così in piccolo però vabbè si vede anche perché sennò se non mi piacevano non li compravo a priori ok e con questo siamo a posto vi ho fatto vedere tutto ciao ciao alla prossima